Quella gente che dopo l'alluvione del 15 ottobre hanno aiutato scendendo prontamente in strada perché il rugby Benevento non è una semplice squadra di rugby ma una società che storicamente ha sempre dato tanto alla sua città anche sotto l'aspetto sociale adesso manca poco al traguardo saranno 80 minuti da brividi con una parola d'ordine onorari la maglia bianco celeste con Andrea Fragnito che potrà dare il calcio d'inizio manca poco si congiunge intanto i due stissioni della coreografia sotto la nostra postazione si è partiti è partito il match per la promozione in Serie A subito, palla in tush tentativo, andato a segno Benevento 3, Vacciarubano 0 Prati, vediamo quale sarà la scelta c'è l'altro giocatore senza maglia poi prova il drop con le selli e va che va a segno che bravo con le selli che va a segno con un drop 3 pari va Fanton guadagno territoriale buono la palla esce quasi a metà campo e finisce qui il primo tempo il primo tempo finisce così sul 3 a 3 e non viene spinto inizialmente adesso vediamo c'è la spinta dei Sanniti che provano a far male a Rubano che prova a difendersi con i denti c'è la spinta e arriva la meta è meta è meta è meta del Benevento meta del Benevento con Leone Milco Passaliello Enrico che giocata dei Sanniti trasformazione che va a segno il Benevento e ora il Benevento conduce per 10 a 3 disposizione dei compagni la palla ci trova Bosco ancora avanzamento Benevento e ora si gioca con i tre quarti prova il drop Andrea Fragnito va a segno va a segno va a segno Fragnito come Carlo Canna Fragnito come Carlo Canna esplode il passalecchia Andrea Fragnito chiede ancora di più l'urlo del suo popolo del popolo Bianco Celeste il Benevento ha 13 punti di vantaggio è dentro è dentro e a questo punto manca praticamente solo il fischio finale per mandare il Benevento in Serie A a prendersi l'abbraccio dei suoi ragazzi un abbraccio meritato Passaliello va fuori non arriva il fischio finale non arriva il fischio ma c'è qualche scala finisce è finita è finita è finita questa è una grande impresa 8 pagine rugby Benevento getta il cuore oltre l'ostacolo della squadra veneta e vola in Serie A di torna in Serie A lo fa dalla porta principale come nessuno immaginava a settembre un'impresa meravigliosa